musica 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 che altro la situazione che voglio finire ahahah bastardoni ahahah bastardoni ahahah 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 ma lo sapevo solo loro stavamo all'acqua dietro a vedere tra l'altro avversare no ragazzi però però lo sapevo si si scoppi stavamo all'acqua dietro non vero che asso si è cagato mi ha sfiorato il pelo no? oh ha saltato ci ho fatto al video si Grazie a tutti.